Buongiorno a tutti, benvenuti nel canale dell'Istituto Convenzivo di Settimo San Pietro. Oggi siamo qui per parlare del tema l'amicizia per i banchi di scuola. Carlo, pensi che quella giornata per i banchi di scuola sia una vera amicizia? Sì, perché comunque è una delle prime, otto anni di scuola e di amicizia non si dimenticano facilmente e avendo una persona in banco per cinque ore al giorno è difficile non parlare e socializzare con quella persona. Sara, ci si frequenta anche fuori dall'ambito scolastico? Beh sì, ovviamente, quando hai un amico o comunque più amici si tende a uscire o comunque per passare una sera fatica diversa da solito, tipo prendersi una pizza, andare nei negozi, poi non so, perché comunque poi gli amici si fanno belle cose. Anna Lisa, secondo te c'è più amicizia fra ragazza e ragazza o fra ragazza e ragazza? Allora, apparentemente c'è l'amicizia fra ragazza e ragazza, forse in questa classe non ce n'è nessuna di particolare. Magari c'è un po' di simpatia, però non è proprio un'amicizia, non la definirei come così. Invece forse fra ragazzi e ragazza e ragazza e ragazza forse ce n'è un po' di più, però non è detto, perché la parente inganna, ognuno sa, come li percepisce in modo diverso. Lorenzo, tu hai mai subito atti di bullismo da una dei tuoi compagni di classe? No, perché tra noi ragazzi scherziamo, così mai ci sono atti di bullismo tra noi. Bene, speriamo che questa registrazione possa essere stata utile, noi ci sentiamo la prossima volta. Grazie. Grazie.